Il 13 agosto incontriamoci al mare con lo stand di SBS Comunicazioni. Dalle 16 alle 23 a Marina di San Nicola in provincia di Roma e nello stand Libri al mare SBS a Piazzetta della Marina troverai anche il mio libro I giorni e l'amore edito da Kim Eric e dalle 21 potrai partecipare alla presentazione. Sarà un piacere per me conoscerti e suggerirti il libro per questa estate.